Buongiorno, siamo nella casa del poeta Gatti, che è un poeta francese di origine piemontese. Lui ha fatto tutto il suo lavoro in Francia, è nato a Monaco, poi è andato a Parigi, ha fatto molta misa in scena in Francia e anche al Piccolo Teatro di Milano. Allora, quest'anno la mostra che facciamo nella casa di Amogati è una mostra consacrata al cane, perché a un momento della sua vita quest'uomo che si chiamava Gatti ha avuto cani e era una storia molto forte e questi cani sono entrati nella sua scrittura. E ho fatto questa mostra per spiegare qual'era l'importanza di questi cani nella scrittura di Gatti. Allora, in primo ho messo questo poema che è una litania intorno ai cani e dove Gatti ha scritto come un poema, dove sempre è scritto cane che si, cane nel qui, cane parola che, eccetera. E anche c'è un cane nella sua litania che è un cane di Crea, cane all'infinito ma sempre con son rocco che l'accompagna nelle strade della scrittura in campagna. E là, se vedete, c'è il cane di Crea. Questa è la base della presenza dei cani nella scrittura di Gatti. Lì ho fatto piuttosto una presentazione cronologica dei tuoi cani che sono entrati nella vita di Gatti. Quindi, il primo cane è Lulù, quello che era il cane della sua mamma, Letizia. E là si vede la sua figlia, Anlò, tenendo il cane Lulù. Qua è un cane storico importante perché si chiama Snoop. E era il cane che ha avuto Gatti nel Belgio quando ha fatto un'esperienza teatrale. Era nelle anni 75 e questo cane è diventato il centro di una comunità teatrale. Perché eravamo persi nel Brabant Wallon, in Belgio. E 20 studenti, scenografo, musicista. E abitiamo in una grande scuola e tutte le sere c'era un pranzo. 20 persone. E alla fine del pranzo ogni persona faceva... E il cane... Il cane era un segnale. E allora lui saltava sulla tavola e andava fra i versi, fra i bottigli, fra i piatti senza toccare niente. E tutta la giunta intorno faceva... E lui era diventato il simbolo della comunità, del gruppo, questo cane Snoop. Dopo, come questo cane non poteva vivere in città, è diventato il cane del realizzatore belgio molto conosciuto che si chiamano i Fratelli Dardenne, che ha fatto molti film. E quindi hanno messo nel catalogo delle loro opere questa presenza del cane nel Brabant Wallon. Allora dopo c'è il terzo cane che ho messo e Tonton. Tonton è il più importante, no? Quindi ho spiegato come è arrivato Tonton nella vita di Gatti. Ci vedo Gatti con il cane qua. E là è Vicente, quello che sta filmando, Vicente Ripollez. Con lui abbiamo fatto un film alle fabbriche Peugeot a Montbelliard. e lui era operaio alla Peugeot. E quindi con lui abbiamo fatto un film. Aveva questo cane Tonton. E dopo due mesi di lavoro, lui ne dice, Franco, il dittatore spagnolo veniva di morire. E lui ha detto, io ritorno con la mia famiglia in Spagna, ma non posso portare con me il cane. E allora Gatti e la sua compagna Elena hanno detto, lo prendiamo. E' così che è venuto questo cane della vita di Gatti, che vediamo dopo nell'altro istante, è centrale. Poi Gatti ha avuto tre altri cani che sono un po' differenti, che ha molto amato lui. Lì c'è il cane Tao, che il nome viene del taoismo. Lì c'è altro cane che si chiama Physique Quantique, come la Physique Quantistica italiana. E l'altro che si chiama Shilambalam, come il dio della cultura mayakiche. E quindi questi nomi di cane, Tao, Shilambalam, Physique Quantistica, sono riferimenti alla scrittura di Gatti. Dopo questo arriviamo al momento della questione di Tonton. perché Tonton ha partecipato a molti film con Gatti, era qua con Gatti, lo filmiamo, aveva una presenza poetica. E infatti al momento questo cane, e quindi questa presenza poetica si vede con i manifesti che stanno fatti a creare per Amilcar Barbero, dove fotografie del Paolo Gasparini e si vedono sempre che Gatti è sempre con un cane su questa immagine, no? Sempre con il cane dietro di lui. E dunque si vede l'importanza di questo cane Tonton. E dunque a un momento ho scoperto in un libro che non è stato mai pubblicato, c'è due anni, che aveva scritto un libro per parlare della morte di questo cane Tonton. Dunque la morte del cane è stata una cosa terribile perché lui era a Parigi, il cane era un giro la mattina per passaggiare come si facevano sempre i cani a Parigi, e il cane è ammazzato da una macchina che lo taglia in due. E dunque Gatti non era qua, vengono a cercare Gatti, Gatti si sveglia, va per vedere cosa succede e vede il suo cane in due parti. Arrivano gli spazzini che dicono a Gatti, è il suo cane e Gatti non arriva a parlare, a dire una parola. Allora gli spazzini prendono il cane e lo mettono nel camion ben. Gatti ha perso la voce durante un mese, non ha potuto parlare. Ma il fatto e quello che vediamo nella seconda stanza, a quel momento è arrivato, lavorava con un pittore molto conosciuto in Francia che si chiama Raymond Moretti. Raymond Moretti che ha fatto tutti questi designi e Raymond Moretti lavorava con lui su un libro. E su questo libro ho trovato tutti i testi sul cane. E dunque Gatti è molto colpito per la morte di questo cane e comincia a pensare e scrive che lui, Raymond Gatti, è una trinità, una trinità speciale, non come quella dei cristiani e la Santa Trinità. È una trinità dove c'è tre persone, il cane, l'uccello e l'autore. Allora qua vediamo il cane Tonton, qua vediamo la mani dell'autore, Raymond Gatti, e questo uccello è un uccello che abbiamo incontrato durante un tornaggio di film nel campo di concentramento di Mauthausen dove abbiamo aperto una finestra e là è caduto morto un uccello. E quindi per lui della sua testa Gatti era soltanto una trinità, quello del cane, dell'uccello e dell'autore. E dunque da quel momento di questo libro sviluppa sempre che questo cane è il portatore della memoria, è lui che incarna la memoria. Allora va a diventare qualcosa ancora più forte perché qua, un po' alla fine dell'exposizione, c'è un libro che si chiama La Parola Errante, questo libro che è il più importante che ha scritto Gatti, che fa 1700 pagine e alla metà del libro è una riflessione sulla sua scrittura, su tutti gli aspetti che lui ha abbordato durante la sua vita. E alla metà del libro arriva una questione, come è tradotto qua, La Parola Cane Abbaia, in francese Le Mautien Abbaia. E durante tutta la metà del libro lui cerca di rispondere a questa questione La Parola Cane Abbaia. E dunque durante la pubblicazione di questo libro abbiamo fatto un manifesto, Le Mautien Abbaia e abbiamo fatto anche in giornale Le Mautien Abbaia. Come funziona questa cosa, l'odore a questa parola Cane, come funziona, la sua presenza, cosa possiamo dire intorno. E dunque è tutto il soggetto di questo libro. Dunque si vede il periplo di questo cane Tonton che è entrato finalmente a un momento dopo la sua morte nel centro della scrittura di Armangati.